Con l'autorizzazione ministeriale dell'Adriatic Link prosegue il percorso di Terna, d'altra parte il comitato di Carrara non si arrende e continua a battere i pugni. Sì, perché intanto c'è una centrale già esistente e su quella abbiamo chiesto da tempo di fare una verifica del rumore, che in parte è stata fatta ma non è stata rifatta di nuovo negli ultimi mesi. Il rumore è aumentato e molti cittadini lamentano questo aumento di rumorosità e quindi vogliono dei controlli. Arpam ancora non è venuto, il comune non si fa più sentire e da giugno 2023 che non sappiamo più nulla di nessuno, tranne poi vedere questi comunicati dove si incensa l'arrivo di questa nuova centrale, quindi in più di quella che c'è. Oltretutto noi siamo in una situazione nella quale abbiamo dei cavi dell'alta tensione, siamo nel 2024 vicino alle case. Una centrale fatta negli anni 70-80, ci poteva anche stare, poca conoscenza, eccetera. Nel 2024 non è più accettabile avere cave di alta tensione, intendiamoci, vicino alle case. Quali sono le vostre richieste? Per esempio interramento dei cavi vicino alle case e la sistemazione di questo problema del rumore, quindi ci sarà bisogno di una schermatura evidentemente diversa e in generale una schermatura di tutto l'impianto attraverso dei terrapieni con un bosco, qualcosa che limiti in qualche maniera la vista di questa nuova centrale che sarà alta 25 metri, quindi enorme, su 5 ettari. Quindi abbiamo fatto una serie di richieste al comune di Fano e a Terna, come appunto il terrapieno, come ad esempio una svalutazione degli immobili, anche questo abbiamo chiesto, perché comunque Carrara verrà penalizzata da questa nuova centrale, avvantaggerà il centro Italia, però svantaggerà una parte della città di Fano, io credo che il sindaco si deve prendere anche l'impegno di tutelare le proprietà di chi abita. Quindi anche questo abbiamo chiesto e tante altre opere compensative, ad esempio non abbiamo i sottoservizi in molte di quelle zone, fogne, acquedotto, piuttosto che gas, piuttosto che un marciapiede, ci sono stati tanti incidenti mortali sulla via Flaminia, piuttosto che tante altre opere che abbiamo messo per iscritto sia a Terna che al comune di Fano. Vogliamo risposte, ci è dovuta una risposta da parte del sindaco che, ripeto, è su questa materia silente dal giugno 2023. E vi siete detti anche pronti eventualmente a scendere in piazza? Noi abbiamo già fatto delle proteste, siamo andati anche già in Consiglio Comunale come Comitato dei Cittadini e quindi proseguiremo con quelle nostre azioni, ovviamente democratiche, civili, però di certo non ci fermeremo perché vengono in questo momento calpestati i nostri diritti.